Gara Tigrotti-Pantere, gara valevole per il torneo Io aiuto un angelo edizione 2010, organizzata dallo Xen di Firenze, Empoli, Prato e Siena in collaborazione con AC Maliseris con la calcio. Grazie Simone, ben fai che oggi. Vinici? Vabllo, vabllo, vabllo! Vabllo, vabllo! Va bene Tommy, vai! Grazie, bravo! Vabllo... Maclì, maclì, maclì. Vabllo, vabllo! Vai Braver, via! Vai, Imperatore, vai Imperatore! Grazie a tutti. 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 Grazie.